La partita Reza non fa il papà Ma perchè sono di livello accentuoso ma in realtà sono di nuovo See me on, see me for the year, see me for the one, see me for the year Lei di quanto ti ascolta King See me on, see me for the year Cosa? Cosa c'è? Zuppa? No, la Reza ha detto qualcosa e tu ti cerchi a cantare Ma che cazzo me ne frega Ah, al posto Qua...qu'è c'è scritto che c'è Il pacchetto nuovo, lo vedi? Su notizie E niente Sì Sì si pensa una roba No, sto dicendo che da me c'è scritto che su livello 101, ma sono in realtà 99 Detcusa parte Ah, perchè si è bugato con il mio Quindi sono ad essere locura Oh 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 oh, 1104 No, dai, oggi si dice però un po ho messo la skin dello school group e c'è adesso il caricamento dello school dei miei cuffie parla cosa c'è un po di rumore 11 ce n'è ancora eccomi magna mio ma poi posso chiedere il momento è bello come super stata sospesa da lollo per 10 secondi tre giorni fa tre giorni fa lollo ti ha sospeso per 10 minuti da twitch se c'è qua su azioni moderatori sospensione da lollo per 10 secondi di 10 minuti che non può scrivere perché tu sei un ormi un attimo grazie perché mi ammazzi che è che te sei una persona che minaccia tanto è da anche ieri sera cattivissimo io dopo io li ammazzi non so stamattina sui giornali non c'era niente controllato ma hai guardato lo cazzo eh sì ho guardato ma perché ieri sera mi hai detto che guardavi infatti domani mi sa che non guardo non mi sa come lo guardate arriva arriva sopra tengo paura aiutami ho paura guardati sta arrivando sta arrivando sta arrivando un nero lo so lo vedo lo vedo nevrotico oh era nero era nero veramente ve lo porto ve lo porto tieni il raise guarda che bello ma che merda di salto ha fatto mi hai un pompa mi hai un pompa no ho solo questo e me lo sto usando oh oh c'è un altro guarda questo anche io ma sono dei forti beh vabbè dai è già uno sviluppo che non te lo dici da sola con la zuppa si si è qua guarda un po eccolo ecco buon gatti non ce l'ho c'è una roba devo fermare bene ma si è una jump lina si mmm mh 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 me lo fai a prenderlo mh mh vabbè c'era una volta tiero se vola non vuole non vabbè no Nooo 52 99 69 E 66 Oh, Furious Bug, attenzione! Il mitico, l'unico, l'inevitabile Furious Bug Eccomè... Bruce Banner L'unico inevitabile Bruce Banner Fa ridere Fa ridere Che ha tirato il risultato di fare i Bruce Banner Che non c'entra un cazzo Ma l'ha messo stra bene in un discorso che non... Era stupidissimo Mi prendo quello Ragazzi, qualcuno va a prendersi il coso Che bello che hai giocato Girati tutto pa' Se mi girassi io? No, la potessi prendere nel culo, stai attento Se ti giri Se non mi giro, lo credo mai Dipendi Un attimo, dammi un secondo Vedo il nero No, non giro però non vedo il nero Io vedo il nero Ehm... Problematica questa cosa Oh, non mi interessa Dove... Dove era mi interessa, scusa? Dov'è? Gente, gente Gente gay qua Vado, vado, vado Pista, pista cattivo Sì beh, il zuppa anche meno eh, porco dio Sei frocio eh, Raze Ti piace il tumore ambulante Eh... A me piace la fila La filastrocca Ti piace a te? Filastrocca Fa anche... Fa anche gara il filastrocca Raze Perché ti piacciono così tanto? Eh, vediamo su me e ricordo uno Ed è una scioglietta E' una poesia No E' una poesia Dai... Però, mi faccia fare di pericolo tutti i peccini Per il 24 Ma non guardare ai pelle Fado quella bella videocon Boh... Non credo che è tipo uno sciogli sborra Sì quello V2 Ma che vado quella stu dando? No che bella che bella C'è una mammoth qua se la vuoi se la riso Una mammoth? ecco la pistola mamma come mamma ma un bocchino ma un bocchino è fumosissimo 3 chiavi aspetta non me lo fa fare guarda ma c'è schiacciato tipo raze ah mi dai il bar eh bravo dammi il bar si il bar questo là c'è che arriva king ah ma io voglio il pompa non voglio quello vabbè ti piace questo no ce l'ho anch'io questo scusa rosso nio li vabbè guten p br è super esotico il mio è rosso dai belle ma il pompa non te l'ho rubato io pompa blu ma non te l'ho preso io zio le spassa le spassa de lup si no te lo preso quella quantorina, io eh era qua, era qua era si era dai, era, dai è cosa questo? no, no, l'altro, la vittoria tu lo spassi, Zulpa no, è impossibile no, non ce l'ho io no, dammi il mio bombo, scusa, me ne frego di questa no, scusa, l'hai preso lui, non passa, guardalo vabbè, basta uccidere Zulpa, basta uccidere Zulpa nooo va bene grazie no, ma che ridere che sei adesso il problema è che da lì lo puoi portarlo via oh, la mamma tu, viola no, io la mamma tu ti posso dare uno spas una pisellata di mucca i miei piedi dai, dammelo ho una mamma tu, viola ahah tu dai, mi dai la mamma tu, tutta l'ora io posso dare una mitretta viola dai, la mamma tu a cazzo, tu cazzo, tu cazzo, tu cazzo non è buono questo dai, mamma, guarda dai, non è buono, è king e tu che ne rubi le cose, dammelo no ma vai, dammela la mamma tu, ti prego, dammela la mamma tu mia mamma tu non è dubbio che non la tengo ahah guarda, ho trovato anche il compagno a vederti king e gay king e gay king e gay ma su, cammelo eh, se non mi dai lo rampino, sei gay mh, beh, allora mi sa che ti incuri no, penso che ti fai incurare da un trans ma hai detto, sei gay? no, no, non penso te ve l'ho detto ma poi rizzo, usi sempre la stessa battuta non è di più divertente ma hai dato tu rito ma io rito cazzo e cazzo fra rito perché è diventato talmente cringe che sei diventato cringe rito s marketing bambine si ma io volevo quello qui vedete ahah ci sta ci sta ci sta ci sto, beh ci sto andiamo riciclo pistola subito riciclo pistola così ci può succedere con la mamma mi ha rampito come c'è la predica mi ha pensato come l'uomo rano l'uomo rano, famosissimo l'uomo rano l'uomo rano sono l'uomo rano è stato un punto da una rana è stato un beccato mangiato una rana è stato l'uomo rano l'uomo rano famosissimo i fumetti del millennio l'uomo rano Andrew Garfield l'uomo rano senti i miei prassi il giatto e il potato mi è uscito è colpa dell'uomo rano ma cosa fai a farmi tutto questo danno eh l'uomo rano fa dell'uomo rano vaffanculo va occhio occhio quelli sono proprio di uomo rano dai ma che cazzo di uomo rano io adesso scappa scappa adesso scappiamo si si più a qualcosa eh io non ho rampito però mi devi succhiare il pisello eh 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 oh cazzo codo guarda fa succa dai coglione non so se sei più gay te o o con la leggina Elisabetta di Ovalone la sua fottuta morte mi mette lei che non è morta no non è morta sei un po' indietro è risa è un po' un po' indietro è ancora a settembre 2021 no si dai no si dai prima sono preso prima del cover isola isola che non c'è oh quello che volevo culo c'è la risa niente c'è non chi la mamma c'è la leggendaria ah ok allora perché ha detto ma poi ma poi me l'ha detto ma poi l'ha detto come se volessi qualcosa cioè boom vabbè no ci sono i froci stanno vedendo la teresa mi nasconde tutta una casa io sono scosto dietro un altro famosissima casa eh questo container guarda lì porco dio su camelo coglione dai eh si da dove eh vabbè arriva lui porco dio con la skin del basket come se fosse strova si dappertutto tutti i lati stavo per sbutare la monster ti immagino valli su inculato da tutti i lati cazzi che gli arrivano del culo tutti i lati cazzi che gli arrivano del culo da tutti i lati metti pronto vabbè dai il famosissimo il bambino morto questo è un gara skin di merda come si chiamava ah vabbè è un nome di merda coakas croakas no è flash no non è flash questo non è flash la cuffia lì è mia cuffia dai infatti fa un po' di rumore io alle sette e mezza devo andare via alle sette e mezza va bene dopo giù può piange dopo non giochi dopo vero il buono torno tipo alle venti di sera alle sette e mezza otto e mezza 9 9 9 9 9 e poi arrivò alle 22 30 10 a letto di solito riesco nel tuo horario è vero ma no è un rapido mio papà ha letto limite perché sono io stavo ridendo così forte che ho sentito soltanto io ho due dita e lui e lui le sente mi sente le mie due dita nel culo le sente mi stava mi rompe i coglioni mi stava vedendo male al pancreas dio caro finisco come felix dio caro dio caro prontu non si dire devo sventure altre due m porco dio uno pinga prendi il lama io l'amo qua tu la mi la il tue il mio amore tutti eh niente ho un cavolo di di dio questo è un cavolo di mare oh chi è questo? ah ok che paura pensavo fosse quello non lo avevo armi ma ma che fa il rift quando lo uccidi come fa il rift? no non fa il rift dai un po' di materiale si perché ti urbò tutti i materiali tu dammi un po' di robe io ho i colpi ho visto un nero che aveva il cazzone e si è spaventato raga sono invisibile come se no non è invisibile giuro no basta 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 aspetta che vado a tutto come c'è ecco ecco eh sono invisibile ma poi non è invisibile è un divano ma come ti crede ma sei un cazzino di divano ma sei un porco di divano e anche io non mi vedo eh non ti vedi ma sei un divano per quello non ti vedi un po' di body shaming qui eh un po' di body shaming un po' di body shaming sei un divano ma che io mi vedo in fondo no perché sei storta come Cristo tu sei qua però il divano è di qua questo non è un ferro scusa io lo vedo io non riesco a vederlo io ma va che gare ma scusa ma se ti sei ferma ecco io sono dentro di te in questo momento bello ma comunque potrebbero essere ci tanti però è vero molto sessuale è un movimento sessuale è un movimento sessuale è un movimento sessuale cosa c'è? hai interagito ma non mi fa niente aspetta ma sto interaggendo con l'aria salga 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 no dai non ho parole no ti preoccupare è tutta una tattica di king come su rocket è tutta una tattica di king non penso di aver detto quelle robe lì eh un attimo no aspetta aspetta no è niente cerco una manovra aspetta porco dio no come cazzo ho fatto incastrarmi così raga pesce 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 ma 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 sta vibrando la macchina ragazzi è un vibratore dai frattelo mi fai trasformare di nuovo non sparare e la macchina è bloccata un attimo cerchiamo di sbloccarla se spacchi il tetto non mi aiuti molto eh aspetta se mi metti anche una scala aspetta eh un attimo io metto io certo come hai visto nooo e niente ho preso la palla nooo no cazzo non fai eh vediamo chi vede appena ti sparo sui nemici nooo fatemi una scala per piacere un attimo che qua è scivolo il ghiaccio è scivoloso fatemela di ferro fatemela di ferro per l'amor di dio ok ah no perfetto 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 no no ok aspetta no bisogna andare piano 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 bisogna andare piano bisogna andare piano piano ok post mi hai seguito su questo col bisturi bisogna fare sto lavoro eh ma ah 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 oddio quello si che è forte ah ah il cazzone di gingari eh stai attento eh vabbè bisogna fare un prestato ragazzi oh cazzo ah 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 non hai idea che presi tra l'altro shhh io non ho armi dai spara quel giovane si sparalo sparalo matalo 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 raga 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 l'ho preso l'ho preso ma no sempre io porco dio ah una puttana orco due un cattacente c'è c'è un fiorellino ma questo sei un fiorellino cosa in che senso oh sono caduto nell'acqua sono caduto nell'acqua e mi ha fatto danno non va bene l'acqua ti ha l'acqua mi ha fatto danno possiamo tornare in lobby si vai perfetto dai l'acqua mi ha fatto danno ma ci sono quelli allergi che ha l'acqua allora e niente la mamma di raise è arrivata assorbito da play adesso mi ruba a play ciao mamma di raise non ti sento butta trova trova a un po' di scemi che su zuppa attenzione attenzione ho parole io ora piangono eh vabbè fai solo che bene fai solo che bene a piangere 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 che io rido piangere che io piangere che io piangere che io ti sborro solo piangere rido e quanti avete uno per noi? io ho due tuca da qua grazie vabbè nei zero direttamente cos'è questa? acqua 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 tuuuu ooo è la mia banana no raise non sono croce come te no raise non sono croce come te rizzo cosa stai facendo? sta sbattendo le palle contro il tavolo cercando di senti no prima era più plastica era più pelle su pelle no ma senti sferlo senti comunque oggi ho con questo set ho voluto fare un po' logica le raise ma poco 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 in casa che c'è che c'è che c'è che c'è no vale astrojack di travis scott e leviatano oh oh beh 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 guarda ti faccio un loser vieni qua ti faccio un loser ho fatto un culo è il loser il più il più brutto del mondo bene allora andiamo alla cittadella no cittadella tua mamma mortadella no no va bene mia mamma è mortadella va bene andiamo qua va bene ok di chi è il pink blu? io ok il pink vuole la metterlo sopra al mio non penso non penso non penso non penso proprio guarda è diventato è diventato la mia ma è diventato un triso adesso guarda la mia vuoi dire però cazzo no è la mia patong tiriamo fuori i bene vecchi mi siete sbucciati a mano personalmente ma poi poi i pisani non si sbucci tra l'altro ma che cazzo era un po' confusa è un tipo è un tipo è un tipo quello li ah è un tipo grazie gente i piedi sbucciati a mano personalmente sento sesso lei non è niente dei due qua faccio un lavaggio di figa guarda no non è più quel bug ma cosa godi che ti arriva un pisellone nel culo domani mattina per la ti alzi e non ti alzi perché ti fa male il culo sei duro duro è lungo lungo stretto vai con l'altro bro oh Giancarlo ma non è Giancarlo Fausto ma lui sbuccia i piselli come si chiamava il tipo di prima dei piselli dei piselli eh? ma eh? Gianfranco mi si chiamava Giancarlo no ma chi? ma chi? quello che hai messo la schiga che hai messo in ombi prima per spazio ah Fabio 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 ma Fabio io avevo uno che si chiamava Fabio in classe una volta è morto no ma non sarei più in classe consulto con lui Rizzo ha trovato la padonga Bogo Power Ranger no 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 c'è un tipo lo vado a decidere un attimino e poi non è vero non c'è si è da dove? ah ok ok raga sta per commettere un salto molto interessante si sei pronta dai che muori dai che muori non fa più ridere me la ho giudato lì senza lezze muoio io muoio non lo dico ma che se muori eh se muori stiamo per dietro no 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 guarda che se muori sei morto ma grazie comunque i morti non parano giù per dire di stare zitta stavamo giocando stavamo giocando a caldo tutti ultimi ma proprio quelli vecchi vecchi a casa del mio amico e questo mio amico mi dice perché stavamo facendo che quando morivi aspetta che non vedo perché so già che so già che mi sborrerò ma va quando morivi toccava all'altro giocando questo tipo qua mi dice guarda che se muori sei morto vabbè è logico ma siamo scoperte lì anche un momento però dopo due secondi sono morto nella realtà pensate se la vita è una simulazione ho trovato una bella la patonga no una bella una bella figa vabbè figa no una bella no una bella no una bella no una bella cosa che non ti piace la gravità ma esiste sulla terra quindi devi cercare di utilizzarla allora non ti fanno danno ho preso l'altro questo morire la moria su non non abbiamo un po il posto che è tanto più è un'aria viziata in questa buce no è il brunzo del caso diceva la roba lì che è da froci dirlo che c'è l'aria viziata ho chiuso le il che merda comunque un'arma cosa zappa adesso l'ho seguito anch'io c'è tanto sti spiegando un'arma da parte che ha colpi infiniti però comunque l'uomo 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 sto usando solo armi con colpi cecchini perchè vuoi essere sbordato in un occhio zappa no no hai detto adesso ti sburgo in un occhio no adesso King ci spugna in un occhio ah ok non l'ho fatto ma questi che cazzo sono siamo letti di bruxelles a me fanno cagare a me fanno cagare a me fanno cagare fanno cagare dai ah allora fanno siamo cavoli piccoli vabbè non è che cosa vuol dire dimensioni contano sono i cazzetti di bruxelles vabbè a giù mi piacciono i cazzetti allora oh sto bruciando a torti in culo non l'ho più non l'ho più posso per la mangia patate qua c'è una mammoth blu lo cinaptor dimma c'è una metal gate c'è una metal gate stavo cadendo oh King Koala oh merda cado sempre c'è la mia pistola no niente che pistola niente però non vuole olè cato al volo sono morto vai raptor corri raptor velo raptor velo raptor veloci raptor brum brum la compito rap rum brum agaffi che combinate andiamo a fare saltare stop stavo per dire la chiesa mannabilissima stop andiamo a fare saltare ne no teste ovviamente di ne no 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 bulk fiction oh oh quindi adesso altri Giovanni e Giacomo sono riuniti cazzo è vero oh è vero io non posso capire la cosa perchè ci va fuori ieri con un bambino minchia da un lato è vero ti rodi dalla mano adesso no no chi è il decelebrato che abbiamo sparato c'era un altro sborrocchio di optimus prime ma qua dentro c'è un velociraptor rincastrato salutalo guarda mi dite che c'è un velociraptor qua dentro ma sarà sopra si no sopra non c'è però si è dentro è dentro la montagna eh va bene impariamo a rispettare le disabilità degli altri salite nella mia macchina go into the car no quello lo fai tu di solito io quasi quasi questo pompo me lo recupero anche salga go in my car bro e poi anche il culo arriva arriva immagination vai a fare in culo come on baby let's go by I'm on fire ho intanto buona di safe adesso lasciatelo pure lì brazo posto eh no volevo dirti spara lì ecco volevo dirti eh ma la pistola qua ha un colpo solo lo schifo basta è bellissimo questo se avesse più colti come la dico normale eh ma la dico normale non fa tutto quel danno dal corpo ah no 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 fa almeno ah no sai cosa metto metto il mio preferito proprio lui un attimo prendiamo questo camera vai e passano lenti ahahah ahahah ragazzi non posso dire un po' mentre mi manchino adesso voglio uscire e che non ci pensi non guardare cosa so non faccio non faccio che dimostra 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 cosa dalle loro menti ahahah le sconosci una canzone di tanti anni fa che sembra scritta ora non mi ricordo neanche più come fa state nella macchina andate via i love you baby e così non c'era i love you baby te l'erò per te verrà domani e finchè non vedrò la troia nei tuoi occhi non andare nei tuoi occhi non andare nei tuoi occhi bellezza è potente ci puoi fare cose belle anche fotelerine niente aiutate le cose accadono sempre sulla strana per dalla scurrizo subito a bordo l'uncidente nell'uncidente dipende sul pacchetto e legali uno l'ispetto mamma Ma come? Ma come? Gugiu! Mi fa... Non dice... Qualcosa come... La luce è nei tuoi occhi! È nei tuoi occhi! È nei tuoi occhi! La luce è nei tuoi occhi! Che cazzo è? Perché se no... C'è uno che qui, eh? Godo! Bulto giù! Sei qua! Sei vera! E ti sento in giocare pace! Di così non c'era! I love you baby! Ti intero per te! Stasera, domani, e finchè non vedrò La luce è nei tuoi occhi! Porca la madonnina! Non è morta! Non è morta! Si è buttata! È morta, ok! Aspetta che l'ho ammazza adesso! Proprio cecchino! Proprio cecchino! Sì, ne ho, ne ho! Aspetta, ne ho ammazzo questo che è sotto! Zupa, tu hai colpi giù! No, coglione! Perché sono appena tornata in vita! Cosa è sta roba qui, Negrom? No, no! Quello scherzo! No, Gugini! Gugini! Oddio! Invece chi ne ho trovate? Chi cecchini me ne... Ok, sono fuori, riprenditi! RIPRENDO IO! La safhe! La safhe zona! Oddio, oddio, quanto cazzo in alto sono! Andate sopra la! Oh c'è gente là Voi andate qua E c'è gente là Oh c'è Uno morto qua Raga via 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 Correte È morto C'è un altro cannone Zuppa prendilo anche tu questo Ho fio, fio, fio Ecco che c'è gente dall'altra montagna King Arrivo Boi è King No sono stata io Cosa è troppo OP Andate sopra che ci stanno facendo il giro questi Sono sopra l'Everest Ma dove hai fatto prima un colpo No Oddio sto per cadere Grazie gente Aspetta Aspetta doppio cannone King Al mio via Triplo cannone 3 2 1 Via E chi è il pirla Forse io Sì Sì Ti sei fatto danno tu È vero cazzo Aspetta Merda Torri ti zuppa Mi hai poca vita È là Il pirla È sotto Merda Hanno restato ma ne abbia fitto io Non lo so il problema noi siamo lontani dalla terra ah no? hai andato la dietro? vedi? ma che io non parlo più? ah avevo il microfono mutato? come si fa? non so quando l'ho mutato ma da quanto è che non mi sentite scusa? io da 5 minuti buoni non so ma che 5 minuti? 2 minuti ma ok ah quindi quando vi dicevo triplo cannone non mi sentivate? no vabbè ora si capisce molte cose c'entra lì? vaffanculo ma se mi seguite guarda che era meglio ah no! ah no! ah no! ah no! decisamente è meglio no no eh si perchè c'entra anche lì c'entra lì c'entra lì sai fare il culo? ah no si attenzione cazzo sono morto sono mortissimo non è vero? si porca troia nooo ma dio me ma dio me la banana la banana la banana la banana vabbè vai in me nooo eh anch'io sono caduto ehi te l le avevo presa nel più esce io morto da soli siamo morti tu di te Quando hai detto perchè mi hai fatto morire, stavo per sbuttare tutta la monster sulla... Tutto, perchè in lobby, scusate? Ma tu hai fatto... ma proprio tutto, eri, eri, tra il triste e l'arrabiato, eri, perchè? Stavo per chiudere la live, tra l'altro Chi ora è? Sono le 17 e ci print Io... Facciamo l'ultimo No 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 Così... no 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 no... No no... Non c'è... si, è una fine, è una fine, è una fine Sì... è una fine... È... è una fine... pronta giuppa pronta giuppa giỏi storia allora viene però che una merda Cosa metto? Mi ricordo che lo usava un botto a raise quel coniglio di merda Per un periodo è stata la skin main di raise Penso che sia la prima volta che ho visto raise a livello 100 No ma va tutte le altre volte che avevo il pass Ma non ti ho mai visto a livello 100 Ha visto quello o su livello 100 o su livello 300 No quello sono io Ecco vedi per avere questa skin sei arrivato a 200 Eh sì c'era stato l'unica season che ho trovato Ah me la ricordo La season in cui c'era la zuppa Cioè Quella prima Sei froce E tu froce Eccomi Scusate Scusate Non so se esistono anche in Italia quelli No No nel senso No nel senso Quelli che dicono le parole Li hanno debellato Non sono le parole No perché non sono muti Dai ho dato l'arma di Bender come prima arma ma sarà possibile Dio madonna Un bel termico Una bella termica Due termici scusate Tre termici scusate Quattro scusate Su chiamalo Quanti cazzo di tagli ci trovo L'estate passano lente Se le spacchi una per volta aspettando una svolta baby Guardalo guardo come arriva su No in realtà a me mi fai un cazzo In il cover c'era un tipo E' quella mamma è blu Dammi a me è blu No dalle la delete Dalle a me che faccio la partita solo deagle Vieni La mamma Grazie per la mamma Sì ma voglio anche Oh grazie Ho fatto un po' la cazzata Prendere sto a R Pezzo di merda C'è uno che sta C'è uno che sta nuotando sotto l'acqua Fammi quello grazie Ok Il resto Il papa voglio il papa Botto di merda Guardate il da Facebook Ho fatto 173 Perché sta ballando? Il can Ah ecco chi era Il can di Dio sta ballando Attenzione Non i divocani Il can di Dio Sono due robe diverse Attenzione Perché uno è una roba E l'altro è un'altra roba Dove cazzo è? Sono tutti sotto l'acqua Ma che cazzo di problemi hanno? Eh il piatto è in vacario Dai che tu L'ultima Questo si chiamava Simp Spiderman E di Simp aveva solo il buco del culo Era simpatico Ma metà Era simpatico ma solo solo il buco del culo E' un'altra roba Neme Fermo dove sei Dio che boffa Non la fare Colpimi Colpimi E' un'altra roba E' un'altra roba No io non ce li ho in realtà Quindi non so cosa volessi Io non ce li ho sinceramente A parte che ha fatto una battutissima Che avevo cercato di scammare Ma non è ormai E' un super E ha detto una cosa un po' da feroce Potessi diventare come la mia grandissima leggenda Quello che canta ed è cieco Bocelli Boccello Si baccello Che torniamo ai piselli E torniamo ai piselli Si zuppa Mecciati Mecciati Eh si Eh no no Ragazzi Oh ragazzi La macchina di pornazzo Quelle ruote Ma quello la ma è cosa Taxi fake Take taxi Che c'è la radio Puoi fare questa O queste moto Ah Ok Ok Posta Beh è bella la mia arma comunque In realtà si che posso Perché non mi ha fatto Sparo a Riso Guarda Guarda Stai mirando I giorni passano Venti Andiamo a conquistare cittadella ragazzi E' già stata conquistata Ha messo da ritico Ma no ma stai attento a riso Quello mi piacciono gli uccelli rari Ma no ci sono anche i bot Mi ha messo da i bot Qua da me Andiamo dai E poi ci passano lenti Chi è che posso soldare Nessuno Qui nessuno Ho già soldato io Pinga ti sei mutato di nuovo Dattemi un attimo Ah ok forse Ok forse Oh ma forse Madonna Ma forse Ah ma ci sono i tipi veri anche si per tanto va bene vabbè ma no ma vai mon e vabbè e vabbè mi ha fatto fare lo shieldino aah aah eh no vai non ha soldi chi è stato inculato che fa via sempre il momento sbagliato sempre sempre anche su giochi ci metteva legge il messaggio mentre facciamo competitivo che se scendo se la perdiamo scendo di 20 livelli no e lui si guarda il messaggio ma su che mi cazzo è vero? no intanto sono andato a pisciare questo preciso istante ma prima mi stavano chiamando dai zuppa a fare un altro perchè qua è stato un attimo di problematica chi mi ha scritto? va bene chi mi ha scritto? non vuole ha i messaggi zuppa mi ha scritto dai col bari zuppa ragazzi ma sta un bambino che l'ho fatto prima chi scusa? la cantante lizzo è stata guisata di molesti verso i propri ballerini quindi probabilmente questa emota non trarerà mai più nello shop questa cosa non trarerà più nello shop quella è ma sinceramente non vorrei neanche avercela cioè se ce l'avessi l'ho mai usata e tirata indietro però probabilmente se è una roba ufficiale martedì la puoi ridare indietro teoria perchè? eh perchè l'hanno fatto anche con Travis Scott puoi ridarlo indietro? si perchè? perchè quando Travis Scott non esce per il semplice fatto e quando hanno fatto il concerto la gente moriva e lui ballava questo balletto guarda se faccio vedere lui ballava questo mentre la gente veniva schiattata sui portelloni dell'astroworld ma fanno bene e quindi e quindi poi è stato assolto quindi si no mi sa che ballava il balletto è robot in realtà non mi ricordo però vabbè comunque ballava mentre la gente tende quando è che si trova ridendo il balletto? allora attenzione quel balletto lì non è sicuro quello che ti ho appena detto però se fanno come hanno fatto con Travis Scott in teoria dovrebbero teoria ridere farsi loro distituire il balletto là sono molti fessi no però è è molestia e forte che non vuole avere a che fare con la molestia ma è come anche infatti infatti io si vabbè ma lasciamo stare l'Italia è un mondo particolare ma il mondo è particolare in realtà di suo il mondo è bello perché vario tranne perifero no no stavo a dire io infatti volevo quasi tirarlo indietro Travis Scott per avere 4000 v-bugs però mi ho detto preferisco tenermelo e scammare la gente cioè non scammare la gente no ovviamente si scherza e rompere il cazzo alla gente perché ce l'ho sono morto sono vicino a Terrence non ti preoccupare ho appena ucciso Aura ho ucciso Granita niente da me arrivo 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 ucciso un altro uno è fuori uno è fuori arrivo ucciso l'altro ci vuoi dietro te eh guarda ucciso anche l'altro ma che forti che sono arrivo il re devo avere il pompa lo spasso anche io arrivo uno è sopra sta arrivando da sopra su chiamalo coglione mamma mia la sborra che ti arriva nel culo si va bene come sei girato il 330 tutto per recuperare la vita non è che il pesce tutto per recuperare la vita non è che il pesce un comportamento bizzarro appena ha detto mi lasciate quel pompa è già fregato me l'hanno beh io non te l'ho preso scusa scusa è colpa mia scusa c'è questo rego si va bene guardalo ho un colpo di dico devo usarlo bene ecco lì c'è uno lo userò contro dico scusate ne do uno più no no voglio avere due un colpo di dico voglio utilizzarlo bene non voglio che venga sprecato infatti guarda c'è uno lì se non lo prendo guarda quanto si metti 85 è buono buono non è stato sprecato sai che potevi prendere quasi una resa hai colpito una terra mi sa no hai colpito un cinghiale addirittura mamma quanto sei frocio uno da 1 a 5 da 1 a 6 frocio sei frocio probabilmente nooo non mi sa godo mamma mia ero lì con i pulsi che mi tornavano speravo che non me ne curassi infatti godo la mano da sprecco che forza è un tipo ma che c'è qua ma ciao ecco non mi sa bellissimo si fica voce da da giochi di ruolo sessuali uuuu uuuu pova stai parlando con un bambino di 2 mesi uuuu farti capire devi parlare come lui Oh, era Lebron James Lebron James Adesso fa la battuta Ma qui devo parlare come se avessi due anni con te No, no Strano, ti sai te Un attimo che devo recuperare questo forziere E su, camano Bella sta stanza segreta Bisogna andare nel bunker Udile comunque Ero sarcastico Ma capisco Il sarcasmo non è una tua specialità E ci sono anche gli figli Bale Fire Bale Fire No Bale Fire Vale Sì, Raze, ma calmati Sì, ma ok, ma fammi un beat Mamma mia, che brutto male è quello Ok, ma fammi un beat Mamma mia Perché mi è venuto in mente Di tipo un anno fa Sì, è morto Ah, ci sono i tipi Arrivo Uuuu Dai che arrivi un po' di granate Ma tanto fanno 40 adesso le granate Fanno cagare Sono maschi, è resa Stai attento Ai ai, hanno il pisello Ah, è stato la serra feglie con la granata Eh, vabbè, Zuppa Ciò come i cazzo Corri Cosa ci sei arrivato prima che di Zuppa Ma poi resta aperto Non so che vuoi Inutile è il cazzo Oh, ma c'è gente Ah, ma non erano morti Non mi passano venti Allora, io lo prendo dai Non mi passare mai un cazzo Non ti menti Grazie Guarda che sta entrando Sta entrando, sta entrando Dietro di te Porto via questo Sì, ma non mi servivano tutte queste cose Nel cazzo Raga raga, possiamo scappare dal cazzo Che fai, te ne privi Sì, ma il raise deve fare della sua omnipotenza Mamma mia, ho un Optimus Prime Ho un Optimus Prime Mamma mia Ho un Optimus Prime Ok No, era un botto Ma è rotto Ma comunque non c'erano le cure Sì che c'erano, le ho preso io Quasi tutte io Allora, le ho risucchiate tutte Non le ho risucchiate E io vi rubo le cure Mangala, mangala tu, vai pieni di proteine Oh, molto Ok, Google Quante proteine ha una Vespa? Scusa Credo di non aver capito Non parla Io capisco un raise Che ti piace avere una Abitudine alimentaria molto varia Mamma Sborda Non è tra queste Cosa avevi? L'asma? Ti è arrivato un attimo di Sì, di 104 Tanto io sbancatore risata Che bello Tu è uno sbancatore Amico di Sare Amico intimo di Sare Tra l'altro Adesso sbancatore Ma lì c'è gente ferma Sono botta No, non è botta Sì, era ferma e si guardavano È da lungo Il ciclo Ti è giusto Potete venire da mia mano? No Arriva Pro Rage Ahah Qui ho preso uno Io ho una merda Cioè Già veramente ragazzi Ho una merda di root Spero di trovare qualcosa di meglio Tipo Mi va bene anche una Madda mi cos'è stufa ancora Leggendaria No, c'è già zuppa per quello Che co... Beh, beh Sei leggendaria comunque Carta leggendaria Che comunque vale soldi Ci sono dei neri su Twitter Quindi che non li abbia visto Su tutto l'appartamento Qualcuno mi spacchi quello che lo ammazzo 84 Niente Non l'ho preso Non l'ho preso Non l'ho preso L'ho da salvare il zupo Vaffanculo L'ho da salvare il zupo Io mi fingo un pezzo di ghiaccio Mi trasformo in Perché ho terrorato il zupo? Perché si è ammazzato Si è caduto giù e è morto Perché sono un piatto Eh, la somiglianza c'è però Ok, vai Ci vado alla mano resa Nella sua impresa Mi butto giù, fanculo No, 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 ok E allora non mi butto giù Vengo anch'io su No, no, butta giù No, ho sentito dai passi Però vi sto buttando giù Raga Butta giù, butta giù No, no, fanculo Non mi butto giù Vai, butta giù Questo sta Vai, butta giù, butta giù Sono morto Lui, sono morto Risa, stai attento Che c'è un pesce a sborra Sopra Vai Sopra, sei una merda Eccola, la prima moneta che ti buttava in giù Ma te la dove la figlia Ti hai ucciso tutti Ti hai ucciso Tranne me Ma perché? Mi rubo le cose Ma te la dove la figlia Io sono cercato di salvarvi Ma non è niente E che sono qua A mezzo morto Perché qualcuno mi ha spazzato Sì, spazzato Mi ha spaccato le capiglie Figa Quell'altro romano Rimane l'erba Perché Mi sente Dio Baro Anna Franca Oggi Avete materiali? Qualcosa? Non ho più materiali Gesù Che vita di pensieri Che doveva fare di ora Qualcuno vuole una vita Niente leggendaria? No, io sono a porto Mi sentite una del cuore Spara Ho un'ottima decca di suicidio Però Stavo mettendo in cuo e gira Ma che cazzo fa a muoverci sta roba? Ok, beh, sto arrivando a voi Con la forza del pensiero Sali I giorni passano lenti Sì Non ti sento Sì Siamo tutta un'altra volta Eh, mi sembra di che si è mutata un'altra volta Sì Sì L'ho Dimmi Ma guarda sti veloci dato Ma mi ha ritro papi Sì Dì Allora, andiamo A dare il bacio Parola tua Sì 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 Cos'è cazzo dire? Hai detto giusto Zubat? Sì Andiamo all'avventura Che potremmo Andiamo a dare il bacio Sì Sì Andiamo a dare il bacio Vabbè Si Dio Sì Vabbè andiamo tutti a fa fa perché mi ricordo io non ho mai visto quel cazzo di anime e mi ricordo e mi ricordo la siga si lo so io ho anche il dvd dopo ti mando la foto del dvd adesso lo prendo aspetta vado a prenderlo oh ma dio sia dio pensavo di un piedino momento magli ragazzi io sto cercando cosa sto facendo in questa partita a bella di mamma bad cuca bad cuca a prevedere dov'è prendere il cd di one piece datemi un attimo sì io ne ho 20 non è vero se non è vero dove vai ma dove vai ma doveva un'idea bellezza in bicicletta ma doveva oh ragazzi questi pefferoci no 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 l'uccido di grigolo 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 tigolo l'uccido di grigolo Ho preso l'aighe In una partita spengo Non è che così spengo Non posso Chiuso uno C'è uno solo tu Io ho fatto 75 E' desiderato C'è uno di tutti in me Ok Non riesce a te atterrare sopra Sì perché è un coglione Non mi rendo conto come cazzo non si fa No guarda questo che aveva l'arma di mida Vuol dire ragazzi Vuol dire avere l'arma di mida Vuol dire avere il cazzo più lungo degli altri Ho rischiato eh Ma volta a fare questa stronzata Però ne vale la pena Oh no è un bot quello Allora cerco di entrare nella macchina questo No non scherzavo non li torna Che era vita Qualcuno mi dà una mano ragazzi Arriviamo Arriviamo Arrivò Vabbè sono dei coglioni Stanno andando via Stanno andando dai bot O da altra gente Rizzi è vivo? Sì ma non ho niente Vabbè ci siamo questi tipi qui Qua c'è l'ulto L'ulto primordiale Però c'è l'ulto almeno C'è un altro Mangiù le mele Sono impulata No ho sperato Completamente giro Oh coglione Dai dai sta arrivando uno Ah ok c'è Mangiamiele Me l'ha reso io una cura Eh Qui sotto Senti sotto C'ho lo sluppone E anche il gancho Per raffaffare Oddio 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 mi scuro Eh Eh ma non mi costruisce Ai 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 Oh coglione Guardate la mia vita Ragazzi sei messo di merda No sei King no 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 King è messo di merda Eh vabbè Eh vabbè ma figa Questi avevano un tutto Cioè io avevo solo gli scudi King non hai visto le faglioni di Ray Guardala Guardala come ha messo Arisa il mio cadavere C'è uno scudino Eh si ma muoio Entro e muoio Ah Guardate Quello non è il mio cadavere Quello è il cadavere di un altro Lei sei morto Da seguito gli a dieci Sei morto Vado io vado Bella bella Addio Io vado a troia No non scherzavo Completamente Io vado Chi cazzo è cielo Ceglio cos'è Cos'è Ceglio Cos'è sta merda qua Che cazzo è Ceglio Ok Google Marchio Ceglio Che cazzo è stato Scusa Credo di non aver capito Che cazzo è Vabbè Vabbè ragazzi Ci vediamo stasera Che cazzo è